Raga allora prima di iniziare con il video volevo dirvi esattamente due cose Allora uno ho creato un mio shop, lo trovate in descrizione se volete comprare qualcosa E la seconda raga essendo che mi hanno bannato le live da tre mesi Tre, tre mesi E ho iniziato a fare le live sul canale Viola Quindi se volete seguirmi e guardare ancora le mie live bellissime Le trovate link in descrizione Bella ragazzi sono Bici e ben ritrovati in questo nuovissimo video di Fall Guys insieme a Prato e a Datti Bella ragazzi Ragazzi darti il migliore, darti il migliore Darti non hai collegato il Blue Yeti Niente ragazzo, allora come sempre vi ricordo di riuscire un bel pollicione in sui rischi E che è lasciare il commento E raga come avete visto ho le case separate O questa bellissima videocamera Ciao Che ha molta più qualità Esatto Darti te lo giuro se tu ripari ancora col microfono della webcam La webcam te la faccio rimpicciolire Ti apro direttamente cioè tu ti giro Io apro le tue chiappe e ci faccio tipo un cono gelato Tipo che ci deve entrare qualcosa Ho schifo Mi dissocio Tgp Dicola come dentro Tratico dentro le intestine Ti faccio fare tutto il giro Nessero stango Te la faccio uscire dalla bocca Poi ti faccio vedere ancora Bello Ok ragazzoni eccoci qua In game C'è un altro unicorno Raga trovate il canale Di darti in descrizione Ah beh è vero ragazzoni Link in descrizione del canale Vabbè di tutta lo gr Stai zitto Darti Ma ti sgozzo Raga se mi si spegne la cam Così Che colpa di darti No però Il problema è che non ce l'ho carica Proprio al massimo Qualifica unicorni Un tucano Bella zio Ma pronto è proprio Ma ragazzo eccoci qua Nella seconda partita Non mi lasciano parlare Quindi va bene Continuiamo a parlare Era un ticquattio Proprio parla delle bisnone Della cocaina Che ma c'è Regalato Domanda del secco Meglio farsi di 100 grammi di eroina A un mille grammi di cocaina Ficato per primo Qualificato per primo Bravo Bravo Vuoi un complimento Un applauso Sono stato terminato Sì No è stato Eliminato Raga allora In questo video Faremo solamente una partita Perché ho la videocamera scarica Cosa vuol dire No ma perché siamo al centro Ci attaccano da tutti e due i lati Ma non me ne frega Un cabbo Se noi restiamo per primi Ma siamo tutti praticamente Alla stessa velocità Quindi ne dubito Oh gira a destra Gira a destra Gira a destra Ecco guarda cosa fanno loro esattamente Ma abbiamo un hacker Sì Stanno spingendo come dei caimani in calore I nostri Madonna guarda che botta Che li han tirato Sto rosso di merda Spoiler Lacker Sì bella No abbiamo un martello per rompere le palle No Vabbè dai è andato giù in mezzo Easy Oh qualificati per primi S guys Ma 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 in quanti siamo Siamo in 20 Siamo in più di 20 No il titolo di questo video Deve essere Finale in più di 20 Quindi No Perché No Perché In finale in 20 Ok ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollice in su Iscrivervi al canale Lasciando un commento Link in descrizione Niente guys Noi ci vediamo ad un prossimo video Questo qua era praticamente un video Tra virgolette test Per anche provare a registrare con due cose separate con la videocamera Più Più Bella E niente Ditemi qui sotto nei commenti se vi piace questa videocamera Che è la stessa con cui registro tipo in cucina con Peach Con le robe lì E niente Noi ci vediamo ad un prossimo video Salutate guys Belli E noi Aspetta che devo aprire lo BS un attimo Così E noi Ci vediamo ad un prossimo video Bella rocce Ciao